Ci stiamo occupando del progetto che ADOC sta portando avanti, ADOC Puglia, informo, assisto, tutelo, ossia informazione digitale sulla filiera alimentare, sulla etichettatura degli alimenti e quant'altro. E ora ne parliamo con la dottoressa Silvia Bitritto che è dottore agronomo. Cercheremo di inquadrare la figura, di tipizzare la figura del consumatore nel 2020. Quali sono le sue caratteristiche, le sue attitudini, le sue richieste? Per poter affiancare il consumatore e informarlo al meglio su quelle che sono le scelte più corrette da fare, noi abbiamo dovuto un po' profilarlo. Quindi chi è il consumatore del 2020? È un consumatore informatissimo, forse troppo informato. A volte tende a reperire anche le sue informazioni tramite canali poco attendibili come ad esempio i social network. Vuole un prodotto conveniente, ma che sia anche genuino, cose che di solito non vanno di pari passo. Vuole sapere tutto del cibo che acquista, però di fatto non sa leggere un'etichetta. E' molto interessato soprattutto alle calorie di un alimento e si fa allettare facilmente dalle offerte 3x2 per esempio. Un po' ingannevoli talvolta. Infatti molto spesso questi alimenti sono a quasi termine della loro vita, quindi la loro shelf life come si chiama in gergo è appunto quasi terminata, per quello appunto le offerte 3x2 ci devono sempre mettere un po' in allarme. L'anno scorso abbiamo visto questo tema col progetto Spreco che abbiamo fatto e abbiamo cercato un po' di informare circa le offerte speciali dei negozi, dei supermercati e appunto invitare il consumatore non solo a non buttarsi subito su queste offerte, ma anche a pensare a farsi una lista della spesa, una lista di cosa mangiare, un menù settimanale per appunto evitare di comprare più del necessario. Poi soprattutto con la pandemia che c'è stata, questo consumatore compra sempre di più online o con le app, quindi molto spesso la spesa la fanno gli operatori dei supermercati, quindi lui non si reca più di persona a cercare... Da solo indicazioni generiche. Esatto, soltanto indicazioni generiche, non si sceglie il prodotto, non lo guarda e soprattutto non legge l'etichetta. Un po' ingenuo. Sì, un consumatore un po' ingenuo, per questo noi lo vogliamo guidare al meglio. E' attento all'ambiente, sappiamo che adesso ci sono tantissimi movimenti per l'ambiente, a favore dell'ambiente, però di contro la vita frenetica degli ultimi decenni ci porta anche a consumare molti cibi pronti. Cibi pronti vuol dire avere tanto packaging e tanta plastica, quindi molto spesso appunto la sostenibilità non va di pari passo con la praticità. Poi soprattutto è bombardato di offerte e di pubblicità, come abbiamo detto prima, quasi non sa più cosa scegliere. Molte volte, lo vedevo proprio nel mio condominio, le varie aziende, i vari supermercati, ipermercati e quant'altro ti lasciano proprio nel portone, magari sulla cassetta della posta, proprio questi malloppi di volantini. Per cui magari non è neanche facile saper scegliere o magari l'occhio, come dire, strabuzza, è deviato tra una offerta e l'altra e magari il consumatore può apparire un po' in tilt, disorientato. Per questo è sempre bene pensare, informarsi prima di effettuare un acquisto e poi come ultimo punto abbiamo visto anche che non sempre consuma frutta e verdura di stagione, sempre per la questione che magari i prodotti importati dall'estero hanno una produzione effettuata magari non in maniera biologica, quindi con prodotti che magari qui in Italia non vengono nemmeno utilizzati e quindi non prende frutta e verdura di stagione, tende a preferire magari le fragole in inverno, per esempio. Quindi noi vogliamo evitare che succeda questo. Facendo una buona informazione al consumatore noi possiamo anche influenzare il mercato in maniera positiva. Grazie a tutti.